Simulavano l'errata consegna di merce ai negozi di calzature e profumerie per poter rubare i cogli appena scaricati dai veri corrieri. È stata denominata operazione Pony Express, quella condotta dal commissariato di Fano che ha permesso di smantellare una banda che agiva con destrezza più volte a settimana. Due dei banditi, Carmine Caputo e Raffaele Angri, rispettivamente di 33 e 38 anni, sono stati fermati a Trento mentre Salvatore Stasino, di 29 anni, nella città della Fortuna. L'inchiesta è partita da un furto di 100 paia di scarpe griffate per un valore di circa 30.000 euro messo a segno il 19 febbraio scorso ai danni del titolare di Primigi, in corso Matteotti a Fano. L'uomo aveva raccontato ai poliziotti che un noto corriere della zona gli aveva consegnato 15 colli di calzature. Due giorni dopo, un sedicente impiegato dello stesso corriere aveva telefonato dicendo che c'era stato un errore di consegna e che a breve sarebbe arrivato un furgone per riportare via la merce da sostituire poi in seguito. Alcuni minuti dopo, un furgone con le stesse insegne e colori uguali a quelle del primo automezzo aveva ritirato il tutto. Trascorsi alcuni giorni, nell'inutile attesa delle nuove scarpe, il negoziante si è rivolto alla polizia coordinata da Stefano Seretti. Dalle indagini si è scoperto che dei furti identici erano stati denunciati anche in Emilia, in Lombardia e in Trentino Alto Adige. Queste persone arrestate fanno parte di una banda specializzata proprio nel commettere furti seriali in tutto il centro nord Italia con destrezza, nel senso che riuscivano a ingannare i commercianti e a farsi consegnare numerosa merce, appena consegnata dai veri corrieri. Si fingevano appartenenti a dei corrieri che consegnavano quindi la merce e riuscivano con degli stratagemmi molto elaborati a farsi poi riconsegnare la merce e quindi poi la piazzavano nei loro canali di vende ricavandone molti soldi. Anche perché il valore della merce asportata in molti casi era superiore anche a 10.000 euro. Abbiamo sicuramente effettuato degli arresti molto importanti a Fano, hanno effettuato il loro colpo a febbraio e noi nel giro di poche settimane siamo riusciti poi a prenderli nella fragranza di reato a Trento. I tre, tutti di origine napoletana, avevano la base operativa nelle vicinanze di Bologna ed erano già conosciuti alle forze dell'ordine. Caputo e Angri sono stati arrestati in flagranza di reato dagli agenti della mobile Trentina all'uscita di un negozio di cosmetici dove avevano appena ritirato alcuna merce. Ora si trovano gli arresti domiciliari. Stasino invece che in genere faceva da autista è stato bloccato a Fano. Lui è stato denunciato in stato di libertà. Ora le indagini proseguono per verificare l'eventuale presenza di una talpa all'interno dell'organizzazione delle spedizioni visto che malviventi colpivano subito nel giro di uno o due giorni dalla vera consegna. Sempre per cercare ulteriori indizi, il questore Antonio Lauriola invita gli esercenti, vittime di troffe, a denunciare sempre l'accaduto. Certamente, noi in base alla denuncia poi sviluppiamo tutta l'attività investigativa. Così come è nata questa operazione, da una denuncia fatta a Fano con l'importanza all'interno della videosorveglianza che ci ha dato degli elementi essenziali per l'indagine e poi si è sviluppata in ambito nazionale. Diceva che grazie alle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso spesso le indagini vanno a buon fine? Sono essenziali e vanno sempre a buon fine, sempre. Da che ho esperienza investigativa sono sempre date a buon fine. Quindi io invito anche i commercianti intanto di riferire eventualmente, avessero visto in opera questi personaggi e poi di appuntare l'attenzione sulla videosorveglianza.